Buonasera pubblico di Erzest Research Lab, qui mi ricudo alla cabina di comando per lasciarvi due comunicazioni molto importanti, vi rubo un minuto. Numero uno, purtroppo durante la registrazione del podcast uno dei due microfoni ha deciso di abbandonarci, rendendo così la registrazione completamente inutilizzabile. Per preservare la naturalezza del podcast, anche perché registrarlo da capo non è mai la stessa cosa, abbiamo deciso di lasciare l'audio della videocamera, quindi vi ringraziamo per la pazienza, per questa volta dovremo accontentarci di una qualità audio leggermente inferiore. Numero due, per quanto riguarda gli standings del Pro Tour, ci siamo sbagliati, il record per accedere al dei due era 4-4, quindi rinnoviamo i nostri complimenti a chiunque abbia avuto accesso al dei due, che sta giocando praticamente adesso, quindi in bocca al lupo per il Pro Tour. Godiamoci finalmente il ritorno del Pro Tour, grazie dell'attenzione, ciao! Benvenuti in questo terzo episodio del Lovecast con il vostro pentolo di bicchieri E il vostro Mirico, benvenuti in franco, siamo tornati. Mettemi se ci presentiamo dall'NS, io sono bruciato dal sole di Cagliari. Io sono bianco dal lavoro, smart. Quante cose cambiano? Sai cosa non cambia? Modern, bellissimo, vi lo facciamo un po' domande. Modern, modern, modern tempo di Pro Tour. Tempo di Pro Tour, oggi è il day one del Pro Tour. Oggi è il day one, oggi è venerdì, stiamo registrando i venerdì, probabilmente quando il video uscirà, saremo una fase di più avanzata. Sono già avanzati, sicuramente di due, quello sicuramente lo mettiamo stanoccia. Però il film? E niente, è un Pro Tour, l'abbiamo seguito oggi più facilmente. Io ho seguito tutto il giorno il Pro Tour, non ho niente da fare. No. Devo riprendere delle bruciature. Facciamo un passo indietro per i nostri amici che magari non hanno mai visto un Pro Tour, quale funziona il Pro Tour. Esatto. Tre turni di Draft, in questo caso di Lord of the Rings, dato che è appunto il Pro Tour di Lord of the Rings, che si chiedeva al Magic Con di Barcellona. E il resto era modern, perché la season è modern. E c'è stato il day one, tutto nella norma, a parte questo 7-0, 8-0 di Tron. Di Tron, sì. Ma l'inseng comunque c'è. E' stato un buon protagonista, Tron, tra i primi post, nel senso, prendendo quello che era la tabella del metagame, ma anche presentato, in realtà spoilerata, ieri già da Wizards. Sì, spoilerata, la metteremo un po' in sovra in versione, per i nostri magaggi grafici. Esatto, sarebbero più o meno da questa parte. No, da questa parte. Sì, ha più senso. Sì, da questa parte. Allora, un meta aspettato. Niente di, nessuna sorpresa. No, 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 la prima carta giocata è stata Anello. La seconda Orchi. Orchi, quindi tutto il tempo. Terza sarà Ragamano. Terza sarà Ragamano, Griff. Perisio, probabilmente. Che sta salendo a 120 euro per set. Io non ho neanche uno. Io ne ho 5. Però, no, niente, parlavamo della gran presenza di Monoprimtron. Al momento è finito da poco il primo giorno di Svizzera. Sì, sì, sì. Quindi abbiamo praticamente il record massimo è 8-0 di Monoprimtron, Sammy Nielsen. E poi abbiamo Fort Polar Control a 7-0-1. E tutto il resto della top 8, diciamo, tra virgolette, questa top 8 sono tutti dei 7-1. Sono un Fort Polar Rom. Due non di Lintron, Raktos e Book. Raktos e Book. Non scavo perché è un termine brutto. Esatto. Non vuole essere fregata. Temo Rhinos. Kai Good. Kai Good. Il Der Kaiser incredibile. Der Jugger Metal. Sì, esatto. Si chiamano Giugger Metal. Si chiamano. È un giocatore di vecchia vecchia. 95 inizia. Se lo ricordano solo i vecchi. Io ho due anni. Io ho meno due anni. Esatto. E poi Kazuna Kozaka. Ah, sì, questo è l'ultimo che mi avevo visto. È l'ultimo che mi avevo visto. Esatto. 7-1. E allora, cosa possiamo trarre da questa top 8 assolutamente temporanea? Ketron è il miglior mazzo, nel modo di vedere le cose, in cui giunga l'anello, perché fai un sacco di mana. E nel mazzo con l'anello forse è un sacco di mana. Molto naturale anche inserire questo troppo a 4 che ti protegge, ti dà vantaggio a carte. Esca, Ketron non lo fa. Non lo fa. Ma soprattutto è la carta più forte contro gli anelli del Rensack. Sì, perché gioca a Gagliari Pinto. Quindi il tuo successo è finito. Non pensi. Non pensi. Esatto. E vieni fregato dai puntini. Ketron comunque se ne frega. No, in realtà non vedi anche il board and counter sopra. No, non sono vetti dopo. Sono vetti dopo, sì sì, perdi di quei... Esatto, esatto. Quindi, comunque le liste che abbiamo guardato prima, velocemente, poi li mettei un po' qua in superimpressione, ma non sono nulla di diverso da quello che abbiamo visto da Bologna. Niente di particolare. Sono abbastanza stock. Lista è abbastanza seria, credo. Tron, qualcuno gioca a Votasana, novità. Sì, un paio di Votasana, però se ne lo cominciano, non come l'Under. Esatto. Fa molto rile, me ne hai sempre... Alcuni giocano addirittura a 4 Blinth Stone, ormai si va dritto. 4 Blinth Stone di main deck. Sì, sì, di main deck. E si gioca il talismano verde-nero. Il talismano? Il talismano for resistance, se non sbaglio. Residians 1. Sì, sì, sì. Per fare il talismano verde, per fare quell'eventuale mana nero. E il nero cosa si fa io? In main nero, se lo si fa io, c'era qualcosa. Di solito c'era un dismembert che si gioca di nero. Oh, fine dismembert. E per la ragamand e soprattutto per le Ciri scammate. Il Ciri. Ah, sì, per il Mettel di Ciri. E noi avevamo raccontato questa interazione di fare lo scam su Ciri e poi... Sì, sì, picchi, picchi, picchi e sono 8, 16, 24. 24 cg. Quindi, poi per il resto sono 4-core-core, scam, 4-core-control. 4-core-control forse va un po'... Eh, Greg Orange. Greg Orange è grandissimo perché lui ha deciso di usare il vecchio approccio del vecchio di Orion, Hobnat, ovvero un approccio un po' più control, se non sbaglio non gioca più le Nisse. 4-counters spellbill. Le Nisse gioca dritto. 4-counters spellbill, non gioca anche lui. Spendbears, Stenus Colding, 1. 2-fossive negation. 3-handing, 1-dance down, 4-lea in binding, 4-wound ring, 1-salty, 3-own-nut, 4-soultive, 4-faire, 4-hand-six. E carriera. Carriera perché sono tutti elementari, quindi ci sta. Vabbè, bella scelta. E soprattutto niente halfling. Niente halfling, sì, no, questa è una cosa di Greg Orange, ho fatto i miei compiti a casa e credo che sia una delle persone che non abbia mai giocato nel Fudderall. Prima lo dicevano anche durante la partita, che ha detto, non ho mai visto giocare Manadork e non l'ho fatto neanche questa volta. No, no, non l'ha bisogno, a quanto pare... C'è ragione, secondo me gli standings, 7-0-1. Ma parliamo anche del mazzo che doveva, a quanto pare, spaccare tutto quanto, ma nella parte alta della classifica, non si è visto però, di mirror control. Di mirror control, non se ne vedono nel... Sono tutti 6-2. Quelli che sono passati sono 6-2 perché ho dato un'occhiata veloce. Sono tutti 6-2 e non c'è nemmeno nella prima pagina. Quindi non è nemmeno i 25. Questo... No, è il 32esimo. Ma è più andeser. Esatto, questo mazzo è creato sostanzialmente all'Ord of the Rings perché ha tutte le carte in un'Ord of the Rings perché hai l'anello, hai l'Orkish Bowmaster, hai l'Orien e e qualcos'altro che ho bisogno di dire in mezzo. Poi gioca 4-4, Saddle T, Mortarism, Remover, Scartini, Peskini, Counter Spell. Praticamente è Mortarism che però gioca Orkish Bowmaster. Invece c'è la Capanna, sì. Che è una bella scelta comunque. Eh, Signal Meta, sì. Cos'è la meta? Izet, Mortarism. Zè. Completamente scompasso. Forse c'era uno. Uno quarantesimo, però c'è proprio uno non passa. C'era proprio uno. Mi sa che... Mi sa che il Conversion Rate sarà 0-1. Mi sa che sì. Non l'ho visto bene la prima parte, però mi pare che non l'ho mai visto. E invece nella battaglia tra i Cascanti, tra Temur, Rhino e Linghand, purtroppo, per me, dai strumenti di Linghand, purtroppo, vince Rhino, molto più presente, è molto più forte secondo me. Solido. Proprio per l'Orien Reveal, questa comune che è entrata di prepotenza nel metri che ero in vacanza. Obbiettò. Nel metri che ero in vacanza perché sostanzialmente il problema di Rhino era uno solo. Flotti tantissimo. Ok? 24 terre, ma tu vuoi fare drop a 3. Proprio perché tu vuoi fare tante cose a 3 e quindi 24 terre erano necessarie. Tu togli 4 Scalding Turn e metti 4 l'Orien Reveal. Questo vuol dire che improvvisamente ho una spell che eventualmente può pescare 3 carte e abbiamo visto che è successo. Sì, molte volte più del solito. Abbiamo visto che sono state castate, ma soprattutto... 3 carte. E 3 carte sono rotante, a meno che l'avversa l'utificio buono master. Ma questo è un problema a parte. Ma soprattutto è un pitch per... Sardin. Sardin e Fon. Appunto, Sardin che adesso in Temporreno è salita a 4 coppie. 4 coppie. 4 coppie perché tu devi evitare due cose. Teferi e lo scam di primo turno. Dell'altro, sì. Quindi devi evitare proprio queste due cose, sostanzialmente. Living End purtroppo ha portato dal nostro amatissimo Gaurelina 6 che ha fatto 5... No, ha fatto 6-2. No, no, ha fatto 6-2 è una 6-pass. Ha fatto 6-2. È più Living End, penso. È più Living End. Tra l'altro una lista abbastanza normale. Ho visto che mentre io ero in vacanza, Living End ha deciso di giocare una gemstone cavern. In deck, sì. Semplicemente in Tempo, una terra cambiata. Ed è cargato il numero di Olifanti e di Generous End. Sì, sono in ciclanci. Io giocavo 4 ciclaforeste e 2 cicla montagne. Adesso si gioca 4 cicla montagne e 2 cicla foreste. Perché è un po' più aggressivo. Comunque, il commerciale di Living End è abbastanza basso e ce ne sono solo 2. Erano pochi, però... E uno è una cicla, lo zentakashi. Tra l'altro forse lui era uno che hanno fatto vedere in feature match, che pescava come un drago. Continuavano a scammare il cascante e continuava a pescare. Si scammano l'altro cascante. Quanto pare... Ma se sei al Pro Tour... Sì, se fai seguire al Pro Tour, allora vuol dire che sei grato. Quindi, comunque, questo è un po' un piccolissimo risulto velocissimo del Pro Tour. Ora come sta andando, come lo sta andando. Alla fine non è ancora finito, quindi... Le predizioni sono abbastanza scontate. Perché comunque è ancora un po' tutto da vedere. Se la giocheranno in un azionello sembrerebbe... Sembrerebbe sì, è scamm. Chi vince la domani, io mi ci butto capofitto. Io dico Tron. Secondo me è arrivato il momento di Tron. Sì. A meno che in finale non ci sia un drago su Scamm. E allora lì, si parla. Ah, mi cambia qualcosa. E si parla. Però secondo me è il momento di Tron. Trono. Sai che Trono non potrebbe essere? Non potrebbe essere una buona scelta. Vincerà Nielsen? Un po' scolovissima. Beh, oddio, non si fai scolovissima. Beh, però, sai, storicamente è quello che vince. Sì, sì, sì. E uno non vince mai dopo. Di solito... Ma davvero solo. A parte che non è finita, no? Hai dei due, quindi... E poi sì, sì, è ancora lontano. Beh, dai, questa è un po' la situazione in generale. Niente di... Niente di accadrante. Incredibile. Con Pro Tour abbastanza standard. Bene, non mi sia tornato il... Cioè... Il tema della terminologia. Pro Tour... E in un evento seguito finalmente. Finalmente Cartaceo. Non ho visto i numeri su Twitch, però ho visto che la ciotera bella attiva, quindi... Forse finalmente stiamo tornando ai vecchi fasti e... Speriamo. Stiamo tornando anche ai vecchi fasti e il fatto che Jasmine si accorga di cosa sia successo, perché... Ah, già, già, già. Nella nuova, nel ultimo game, c'è stato Stano Berek. Sì, c'era... Cos'era? Tron, che giocava a Stano Berek. E l'altro era Scam. L'altro era Scam. Io ero un operagavan. L'altro risponde con... Faintec, non ricordo come si chiama... Sì, Faintec. Però Scam, Berek, cosa dice? Che Sano Berek è stata per morire, viene esiliata. Viene esiliata. Rientra di tranquillamente, nessuno di Sino, se ne è le player... C'era un di Giorgio Di Fiato che si stava facendo il capito di loro. Fortunatamente non è capito niente, perché c'è stata un'immediata concessione. Ma in questo caso sarebbe stato War One. Per entrambi. Per tutti e due. Perché per tutti e due? Perché... È vero che è l'avversario con Raga, che ha fatto la giocata illegale, però la sua vera è che è l'avversario. E ognuno è responsabile dei propri programmi. Mantenimento di stato di gioco illegale. Esatto. Failure to maintain game state. Incredibile. Buonissimo. Quindi, questa è la situazione... Però parliamo dell'altro argomento che ci sta caragliando in questi giorni. Allora, io l'ho sentito più in giro. Cioè, mi è arrivata prima dagli altri la notizia, perché non seguo troppo il formato. Stiamo parlando di Centurion. Allora, secondo me dobbiamo fare un paio di prevesse, perché il... Proteggiamoci, proteggiamoci. Stiamo parlando di protezione, perché la commenta di Centurion è abbastanza infogata già di per sé. E dopo questa notizia è gratante ancora di più. Allora, noi due non siamo giocatori di Centurion. Abbiamo giocato un po', io ho giocato un pochino. Mirko sicuramente ha giocato meno di me. Sicuramente ho giocato un poveriggio. Un drago, un grande pomeriggio Centurion. Però siamo persone che, uno, sanno giocare a Magic, che sanno quello che stanno facendo, e due che hanno fatto i compiti a casa. E quindi semplicemente basta guardare lo spreadsheet del mega. Sì, riusciamo a capire per che cosa, insomma. Tra l'altro vorrei fare un appunto, una cosa che non è successa in questi giorni, di puro caso nell'ambito Centurion, vorrei ringraziare Tommaso Guatieri, che è il povero cristiano che si è messo a fare tutti i commercial rate. Ah, quello dell'Excelone. E il tizio dell'Excelone. Grande. Grandissimo, perché una cosa bellissima in questo formato è il fatto che il meta sia chiaro e cristallino, perché tutti i tornei con 17 giocatori sono registrati. Cioè non si può scappare. Si sa tutto. Quindi, complimenti Tommaso. Tra l'altro, un po' mi dispiace perché ha mollato, non in relazione a questa ballist, che appunto è l'argomento madre di questo podcast, però volato da community per altri motivi. Una grossa perdita, tra l'altro. È il pro scorekeeper. È il pro scorekeeper, lo ha tutto organizzato, anche perché ha dei coordinatori di figure importanti. Ma non è sempre così bene che lo assumiamo. Tu stiamo assolutamente qua, e se non fossi dall'altra parte d'Italia, potremmo essere assolutamente qua. Potresti farci pesci. Comunque, ballist di ieri di Centurion, è arrivata dell'altro ieri. L'altro ieri? L'altro ieri sera. Sì, l'altro ieri sera. L'altro ieri sera, sì. L'ultimo Whatsapp di Magic che ti è pianta, impazzito. L'amici si è finita, i genitori che ti indicano. Sì, sì, carte strappate, ma ci sono i rotti. Allora, iniziamo così. Leggiamo la Bans. Leggiamo la Bans. Stavo cercando su internet, ma non c'è. Cerca il sito, c'è proprio c'è un sito. Il bello della diretta. Il bello della diretta. Non c'è nulla di preparato. Esatto. E vediamo, è proprio... Allora, individual card changes. Allora, adesso vi leggo... Allora, sono state banate queste carte, in via definitiva, praticamente. Pertanto lo sapete già, però dobbiamo farlo. Però dobbiamo farlo. Poi metteremo lo schermino sempre qua accanto, così vi vedete anche voi. Days. Days. L'istan da costo due, canto la Bans. è un buggy 1 che puoi giocare prendendoti in mano a Isola. It's not bad. It's not bad. Force of Negation. Non c'è bisogno di presentazione. Force of Will. Ancora meno. Ancora meno. Force of Spike. È un instant a costo uno blu che dice canto la Bans. Non buggy 1. Sì, contraspell. Proprio il classico. E Maratai, che è la stessa cosa però bianca. È color shift bianco. Wash Away, che è di Caldey? No, è di Crimson Wow. Crimson Wow. È quella che costa... È un cancel? Sì. Quindi è un cancel spell che ha costo tre. Due blu e un inculore proprio da standard. Però che dice lo puoi pagare uno per canterare uno spell che non viene trattata alla mano. Sì, esatto. Mi pare. Quindi ti canterò il comandante. Esatto. A quello serve. Per uno vuoi ti canterò il comandante. Toxic Deluge. Quale è un belenoidio? Quale è un belenoidio? È una delle tattie più famose perché si gioca tanto in Legacy. È una tatta nera. Costa due, è una spawn. Uno nero. Non mi arriva. e dice paga X punti vita e tutte le creature in gioco prendono meno X meno X dove X sono i punti vita che hai pagato. Quindi è una ratta molto forte perché ti libera degli indistruttivi. Sì. Fondamentalmente è per quello che è forte ma anche perché a seconda dello stato sul board tu puoi creare una situazione di disbilanciamento. Cioè, quindi se hai dato tutte le creature in gioco non è vero so che puoi portare via tutte le cose ma semplicemente è forte perché G. Costa tre è nera e quindi puoi pagare 1-2 vita toglie tutto quello che è. è forte perché è sicuramente la ratta più efficiente e la ratta che teneva agro molto in check proprio perché con pochissimi punti vita e pochissima mana perché tra i mana e i due punti vita rischiavi davvero di fare disastri. Quindi è molto efficiente è una ratta molto efficiente. Poi The Heidark Binder of Worlds è il comandante Allora è stata mandata come comandante è quella carta nuova ma dunque svolca Sì, sì, sì Io non conosco i fatti a memoria mi ricordo solo quella forte Il meno 2 Il meno 2, meno 3 Dice, allora più 2 dice Fino a una ritorno leggendaria bersaglio a cautela le gamità indistruttibili fino al tuo prossimo turno meno 3 rivela le prime 4 carte del tuo primordio aggiunge la tua mano in qualsiasi modo di carte leggendari scelte tra esse e metti l'altro nel tuo cimitero crea una pittina tesoro per ogni carta messa nel tuo cimitero in questo modo meno 11 prende il controllo di tutti i permanenti non terra fino alla fine del tu non stacca li hanno l'abilità ma che fa insurreaction Sì, sostanzialmente era il meno 3 Entra il meno 3 è fortissimo comunque sta 4 e prendi una carta fai 3 tesori Strategia dei Mators Sì, fortissimo è davvero una carta bella io non conosco bene il meta comunque immagino che sia stata bannata per le strategie unfair insieme a Raphim erano i due avanzi più giocati quindi semplice e poi c'era molta animosità contro di Ada già nell'ultima ballist era stato toccato Underworld Breach perché si giocava tantissimo in Diada ed era sostanzialmente una delle pochissime combo rimaste esatto una delle pochissime combo rimaste in Centurion quindi si sentiva comunque il banhammer su di Ada la previsione era di Ada era finito toccate e poi basta era un'esposizione però non è finito sicuramente due spam Sì Rofellos in seri di Miamal è una cultura molto famosa costa 2 leggendaria ovviamente due verdi Elfo Scout due due Elfo Scout dice tappa aggiungi via De Pro ogni foresta che controlli fitissimo e gli altri due sono Rowan e Henry i gemelli di Battlebound esatto Rowan e Will che io non so bene cosa facciano sinceramente però erano sbannati quindi probabilmente avranno fatto una notazione allora Rowan e Henry e Rowan e Will un ricetto intanto che ne parli sì sì Rowan e Will sono due pointswalker a 6 molto cicciosi entrambi costano 6 buoni come tool per controllare soprattutto Will perché ti pesca carte rende due creature fino a due creature sono quasi panno questi panno sì 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 sono pure di notte Rowan e Henry con le sue più leggendare rosso 4 e 2 rossi entra con 4 tantino per costare 6 era pre-oco ti ricordo quindi era vero più 2 durante il prossimo turno del target player tutte le creature attaccano di quel giocatore se possibile se possono esatto meno 2 Rowan e Henry ti fa 3 danni su ogni creature attaccata che il target player controlla cioè quindi lui è sempre sul target player sì 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 e in meno 8 il target player prende un emblema con ogni volta che ogni volta che ti un'abilità che non hai una malabilità copiala puoi scegliere il nuovo target per la copia molto forte l'altro è blu lo stesso posto però due blu 4 in colore entra sempre con 4 esatto più 2 fino al tuo prossimo turno fino a due target creature hanno hanno forza in costituzione di base 0-3 e perdono tutte le abilità non è male sta cosa eh fa di vedere e meno 2 target player va a pescare due cart è molto più forte quello blu sì Will è molto più forte fino al prossimo turno instant sorcery place walker che casti costano due in meno eh questo è poco forte meno 8 target player prende anche questa target player prende un emblema sì 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 hanno lo puoi dare anche se vuoi tanto molto figo di Fleur perché di Fleur loro due hanno scintillato diviso in due quindi per forza di color dove sta vicino prende un emblema che dice ogni volta che casti uniscono con lo stesso spell coppiano fa la stessa cosa si fa e fa una cosa esatto quindi queste sono le carte che adesso sono legali in centurion però il succo del discorso dove era sul banner in front of the spell che era anche sullo sbagli rothelios però quando arriva dopo sì vabbè arriva anche in funzione dei il fatto che si vedano barnati dei canter spell allora io che abbia memoria mi dico solo mental mister mental mister vabbè ovviamente quello con il mare pirexiano che canterà uno 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 non è mai non mister che zero esatto quello è mai non mister si che ti pagare ti grazie esatto allora ci sono vari discorsi da fare facciamo il discorso a livello filosofico ho fatto i miei compiti a casa come dicevo centurion ha sempre avuto un po' come base l'idea di non bannare i comandanti o comunque bannarli soltanto quando sono davvero 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 problematici ma di bannare le carte che vengono fuori i comandanti quindi l'ultima spiaggia è la raccolta esatto esatto oppure comunque di bannare delle carte problematiche di per sé per il formato come per esempio i tutori il fast market il son il market le non considerate sostanzialmente dal famoso comitato centurion carte pericolose ci sta una filosofia che posso capire si condivisibile e quindi è per quello che sono stati attaccati certe cose e non i comandanti fino ad un certo punto anche perché ripeto di Ada è da un po' anche la team soprattutto da tanto che c'è questo porbottare di buttarla giù sostanzialmente anche perché di fatto da quello che ho capito perché anche io ho fatto un po' di compiti perché mi sono letto un po' tutto in fretta perché non giocando il formato davvero poi insomma ci sta come il polverone quindi dobbiamo evitare tutti i messaggi di insulto 528 messaggi letti personalmente tutti e capire i commenti che hanno un senso perché vi state arrabbiando così tanto di fatto sembrava che fosse uscita poco fa un formato un po' dominato da questi mazzi tempo sì c'era questa sensazione che il tempo fosse unfair che il control fosse molto opprimente cosa che però se tu guardi effettivamente poi la top 20 del meta di giugno o comunque giugno-maggio se non sbaglio se vedi 20 mazzi 8 sono control gli altri 12 sono midrangiosi barra midrangiosi comunque chi ci sta il profondo simbolo è complicato Yoshimaru che ammazza per talità con il cane a costo 1 ah Yoshimaru esatto si è attornato Yoshimaru con Gesca no 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 quello è il nonno quello che dici ah ok Yoshimaru Yoshimaru è l'altro non ho paura ah ok io mi ricordo è il nonno ah capito il cane è perfetto si si con Gesca il primo misur che è rossa vorosango sostanzialmente era tornato abbastanza in noce Tedesh con Rograk Rograk credo che si chiama il comodo a costo 0 quindi comodo a costo 0 quindi Randos Mitteringioso barra un control non so come chiamare era Isamaru Isamaru è il quello che ricordavano quindi si sostanzialmente si 8 control e 12 altri massi come erano capati però attingiamo dalla storia di Magic la storia di Magic dice che se un meta ha tanti control è un meta sano è un meta sano e adesso lo dico a due persone che giocano control ok quindi forse siamo un po' di parte è una cosa che non volete sentirvi dire contro le porte vuol dire che il metagame intanto è stabile perché vuol dire che supporta l'esistenza in mazzo contro che può andare un po' a tappare i buchi esatto cioè si può avere una main deck che abbia senso un po' con tutti e poi con la side vai a limare un match up per o l'altro però vuol dire che il meta è sano vuol dire che io che sto giocando sono risposte uno a uno posso stare dietro a gente che fa cosa inferta esatto io tengo in cerca un po' tutti i mazzi che sia l'agro che sia il combo che sia il midrange che sia un altro contro di se è magari una strategia un po' diversa certo però riesci a starci dietro quindi di base non è male il discorso è quando il contro diventa tempo diventa un'altra serie di problematiche perché effettivamente se a fin ha la possibilità di fare tutte queste chip interaction queste chip counter queste cose qua capisco che la sensazione di perdere perché mi ha fatto force spike al momento giusto possa sentirsi io non voglio dire che sono ban totalmente inventati perché secondo me arrivano da una presa di posizione cioè questa è chiaramente una banlist da presa di posizione perché se tu volevi bannare i counter efficienti ti togliogli soltanto le force e force e daze non mi togliere force spike e ne togliere anche bannare già ti ha fatto andare a banare i counter spell una realtà cioè comunque stai prendendo una posizione forte infatti che ha generato pulveroni è una banlist coraggio non si può dire che non si è coraggioso è una presa di posizione ha dato il tanto coraggio ribagherà non lo so almeno ma per un semplice motivo innanzitutto la gente ovviamente non è risulta bene ma per il semplice fatto che le aspettative erano diverse come abbiamo detto prima le aspettative erano di Adora fin finalmente ci togliamo poi mi hanno dato tipo 6 carte sono tantissime i counter mi hanno dato cos'è erano 6 counter 6 counter per 8 mazzi sostanzialmente sono un po' una serie di sono una serie di staple che vanno in più mazzi quindi andando a punire un certo numero di carte vai a punire più mazzi cioè alla fine non hai davvero risolto il problema perché alla fine continua ad esserci meno forte ma si trascina giù con tutti gli altri mazzi che erano forti sicuramente non si giocherà alla fine probabilmente in contro si tenterà di giocare però con dei counter molto beneficenti mentre la gente continua a fare con Sanfer c'è capito? e questo è il discorso quindi io capisco l'audio verso il counter spell non lo capisco neanche io lo capisco davvero però non lo capisco però capisco da dove si arriva ho sentito tante opinioni ecco non essendo che un giocatore non può per sentire dire che mi informano si alza un polvero sul centurion che di base sta un po' nel dog il mio formato non è si no però sai cosa è il primo formato in Italia nato in Italia cucciolo nostro che davvero si stava creando qualcosa di bello anche perché c'è tornei regionali da 60-70 persone poi c'è un bel circuito torneistico un'altra cosa su cui dobbiamo ritornare assolutamente è il tempismo di questa parte che è una cosa tremenda tremenda mid season orribile orribile proprio ci pensa che il 31 ci dovrebbero essere ancora tre tornei il 31 finisce la season e poi subito c'è la marismola perché poi il nazionale se non sbaglio è a novembre quindi il tempismo davvero orrendo ne ripariamo dopo quindi di fatto vai a colpire tanti mazzi sono stable vere quindi io sparo sono un giocatore di raffino verso 6 carte si ma se tu sei un giocatore di esper hai verso 6 carte tu sei un giocatore di azzorri se ne hai perse 6 5 allora sono 7 perché non si calda se non si calda non si calda delugia dal 7 con esprime ne perdevi 7 con azzorri ne perdevi 6 con monopoli ne perdevi 5 sono tanti sono tante carte e sono carte forti e soprattutto chiaramente non bisogna dirlo l'argomento un po' madre forse of will e forse of migration sono 2 più 1 allora è un po' uno dei postulati di magic diciamo che il card is advantage difficilmente viene ma nato perché appunto più chi era una spell armageddon io faccio forse of will quindi vado a togliere una carta dalla mia mano quindi un formato singleton non è banale perché è una carta che non trovo mai più quindi non è magari legacy che ti toglie il ponderino il brainstorm ti toglie un'altra force cioè forse su forse è una cosa che si fa molto spesso perché in realtà da giocatore di legacy abbastanza attempato non è un counter che vuoi vedere sempre è un counter che ti piace nei primissimi turni dopo tiro volentissimo un counter spell uno spell il pierce eccetera perché il fatto di toglierti una carta è un impegno è tanto è un impegno soprattutto ma anche in centura che non è un formato lento è un formato più impegnativo in singleton poi appunto sono tutte diverse quindi io prendo una carta e ci inizio per sempre quindi è una cosa comunque molto pensata però di fatto è un 2x1 quindi tu perdi il tuo armageddon io perdo la mia forza will un punto vita vabbè può importare come no e un'altra carta per sempre perché viene esiliata quindi di fatto sulla base di questo principio è un po' il fondamento delle spell tra virgolette gratis quindi tutte le varie forze che sono state anche stampate dopo sono tutte ispirate esatto degli mentali che spicciano quindi tutte queste cose qui stanno in piedi e sono relativamente accettate da più o meno persone perché nel momento in cui le subisci secondo me finché le subisci vedi solo il lato unfair quando inizi a giocarlo capisci qual è il peso di giocare una force of negation in modern con living end qual è il peso di giocare una force of will in legacy quando davvero una carta una carta di vantaggio può farti davvero la partita anche perché ora noi parliamo sempre di force force però il prossimo replay che vedrete uscirà dopo questo qua e c'è un game in cui mi riempi di griff e poi non lo mi dite e poi non lo mi dite certo quindi di fatto è vero che tirare le spalle catis è bello ti hanno uno è bello ti hanno due perché farne due rimani con tre carte in mano e una deve essere all'altro perché sono stati l'ex drop quindi è una cosa che comunque tiene in check un sacco di strategie è vero che tanto forte di solito non è neanche una carta da controllo in base è una carta da combo è più forte nei combo che nei controllo le forze sono le carte da io voglio fare una cosa unfair e voglio star fare l'altro esatto quello è un po' il senso però a me viene strano allora ci sono le due fazioni ci sono le persone che è noi i camper gratis sono fortissimi la frase che mi fa un po' girare è che ho tirato forse ubi le ho vinto no non vinci non ti fa vincere è una carta che mi sa non fa vincere quindi di solito la regola ha fatto tutta questa premessa per dire che di solito si fanno lo win con è una carta fastidiosa si banna la carta proattiva e vanno risposte esatto perché di fatto la risposta deve essersi anche perché creano un po' quello sbilanciamento alla pioneer si ti faccio toxis di prima faccio griff queste cose qua io non ti posso rispondere prima parlavo di ma io adesso faccio raffaello sturno 2 gioco blu bianco e devo sperare di aver miscalculation in mano si ho prismatic ending ho prismatic ending ho squirt splashes cioè ho dei tour in meno ho dei tour in meno per togliere un comandante che mi giocherà di nuovo diventano fortissimi gli enter the battlefield effect esatto quindi tu tiri una cosa che entra la devi fare entrare trigger a fa una cosa tipo pioneer fa f***o tipo pioneer sei troppo in ritardo non puoi giocarci di risposta ecco devi fermarla sulla stack ci sono cose da fermare sulla stack essenzialmente poi la cosa che è stata un po' sofferta dai giocatori secondo me è il fatto che cittura è venato proprio dichiaratamente come formato competitivo si formato competitivo stile comando quindi comunque con tutto il pool di carte o comunque il più possibile ecco quindi per chi non lo sapesse è uno di uno non trovare carte più comandante 25 punti vita si si poi c'è una regola particolare sui partner ma è una roba che hanno messo dopo perché prima hanno guardato tutti i partner poi li vogliono rimettere allora c'è una tasse in più ma è sostanzialmente simile è sostanzialmente uno di uno un po' più competitivo anche se ci serve un podcast da fare sulla competitività di un formato con 100 carte in quel momento il discorso si è troppo da lontano è troppo teorico cioè noi aggiungiamo 70 minuti troppo teorico però se lo volete lo faremo esatto il discorso qual è? se tu sei un giocatore che vuole fremeare la skill si vuoi forse un po' più il formato vuoi questo tipo di interazioni nel formato se tu vuoi il pioneer dove sostanzialmente io gioco RB midrange tu giochi grisfang tra l'altro ho preso un matchup dove si gioca tra l'altro ma facciamo finta io gioco grisfang e tu giochi mono green ok so che a 99% perdo perché tu mi fai carne e io devo avere per forza la compu prima e tra l'altro tu non giochi interazioni che non ce le hai e io non giochi interazioni verso i temi che non ce le ho quindi sostanzialmente solidario sostanzialmente ma si che giocano da soli che non interagiscono che serve anche quella di una base di magic interazione giocare insieme il fatto sai quando le persone si lamentano magari dicono ah mi counter tutto non mi fa giocare in realtà no state giocando state giocando state giocando più di quando giochi 28 artefatti tu giochi 28 artefatti esatto perché state scambiando uno a uno una carta molto fair il counter spell esatto infatti è brutto da sentire dire magari per i giocatori che non supportano il blu ma in realtà i counter spell sono necessari devono essere e torniamo sul discorso che secondo me è un ban più filosofo una ban più filosofica po' politica si è più politica diciamo le cose come stanno una banca politica proprio per dire questa è la direzione che un formato vuole avere se non ti sta bene esci dal formato no poi in realtà paradossalmente non è vero perché quando c'è bisogno di tornare indietro lo fanno però a questo giro ti rischi davvero la faccia quindi non lo so esatto il discorso è proprio che si era creato qualcosa di figo qualcosa di davvero seguito anche internazionalmente c'è abbastanza commenti in inglese sotto la banlist che appunto è spiegata in inglese perché comunque c'è una sebbene ovviamente minore una fetta di giocatori soprattutto del nord europeo ho visto un sacco di svedesi non è che cosa che apprezzano la banca un sacco di svedesi che commentavano e tutti sostanzialmente non tutti bestemmiano gli svedesi esatto sostanzialmente c'era un po' di perplessità proprio perché è palese che sia una ban politica cioè una persona che ha un concetto di magic normale che la vede come la grande maggioranza delle persone trova questa banlist assolutamente anche un po' neotro magari come una giornata un po' neotro verso tutti i colori nel senso da giocatore di control odio cosa tozzi griff però non posso chiedere che tozzi sia pannata esiste proprio per andare a tenere in centro questo tipo di mazza però crea un paradossalmente scusa se ti interrompo questo crea una cosa banlist crea un precedente orribile che è perché perché forse will sì griff no perché fiori no perché perché esatto perché tutte le altre scuola gratis no e quelle sì e sono operative e possono far danni anche perché una delle motivazioni che veramente non mi andavano giù è quella del fatto eh ma non ci puoi giocare attorno eh perché sono 100 card sì ma è la base del formato però il fatto è singolo attorno e quindi già lì uno dice eh può avviare se la come no appunto è un po' quella l'idea però la cosa che comunque colpisce è che si può girare attorno a un counter spell ci sono c'è duress stozzis unmask griff ci sono tutti i tipi di guardano scarto una carta ci sono c'è the fair game rather c'è grand abolisher ci sono tante carte che evitano che succeda questo tipo di interazione però di fatto a me lascia sempre un po' perplesso perché mi fa pensare a persone no non è il loro caso stiamo parlando di cose in generale come un principio proprio teorico teorico di magic ecco di persone a cui non piace davvero magic cioè se ti piace magic il gioco devi accettare che esistano più strategie che ti piacciono io odio quando mi fanno lo scattino di primo che devo farvi vedere la mano però esiste e se lo togli io divento troppo forte e se mi toglie la mia counter spell diventa troppo forte la sua strategia quindi è un po' come tenersi in check no è un po' come sono come due conquilini che devono esserci che si guardano perché così la casa rimane pulita poi crea un bruttissimo ambiente per cui hanno tolto tutti i counter e quindi la prossima volta dovete togliere l'altro oppure vedi che hai ragione erano troppo forti queste carte qua lui è sicuramente il colore più forte di magic nero però non più non più in lega sicuramente lui è nero lui è nero sono i coli più forti lui è nero sono sempre stati i coli più forti di magic storicamente che stanno in piedi anche da soli un po' meno i blu in realtà rispetto al nero però di fatto le strategie più forti hanno sempre contenuto uno o l'altro sì certo storicamente sì però il discorso è proprio che non so dove voglia parlare questa parte nel senso perché perché quello perché appunto come abbiamo detto vabbè è politico quindi prendo punti e dico basta sì però ragazzi uno sei è completamente credo che il comitato il comitato centurio perché ogni volta ogni volta farò questo gesto perché adesso sono cinque persone sono cinque persone dichiarate poi non si sa è questo comitato un mistero un po' misterioso un po' noir che decide le sorti di questo formato che viene sempre insultato e tra l'altro una cosa che forse tu non hai come insight vai spara ogni band è criticatissimo qualissiasi band loro possono fare quello che vuoi cioè è tutto come al solito sì ma molto peggio perché queste persone hanno un volto un nome un coglione sì non è un'artienda non è Marco lo scuoter è Mimmo Franco Franco il podcast ti sciopo male poi te la prendi con persone e quindi è più facile prendere sì perché sono giocatori comunque non hanno nessun potere hanno solamente hanno solamente creato questo formato ha preso il suo seguito ma sono comunque delle persone normali che meritano il rispetto sì meritano il rispetto e soprattutto secondo me ho letto un po' di tormenti ragazzi calmatevi cioè i topi di un formato che puoi tranquillamente abbandonare o ignorare puoi giocare tranquillamente Magic Sense Centurion i commenti tosi hanno cancellati giustamente no sì io sono favorevole alla legionazione dei commenti che sono anche perché venivano accusati certi amministratori di aver cancellato certi commenti per antipatia cioè ci sono proprio delle dinamiche un po' un po' un po' italiane diciamo sì da banda dai da fast forward questo suol dire però a parte questo che ovviamente ha un minimo senso perché comunque ripeto il bello di Magic è che se non ti piace Centurion non vuoi giocare qualcos'altro bellissimo è proprio figo il gioco di Magic perché ti rompi la vale di Minear come noi giochi modern ti rompi la vale di Modern giochi di Legacy giochi di qualcos'altro giochi di Power standard giochi di Power vuoi provare qualcosa di diverso togli Commander però fa strano questa cosa qua questo fatto che tolgono delle carte soltanto con un colore delle staple vere cioè che fanno in modo che quel colore possa appare anche un'altra cosa perché io ho pensato si sapranno solo di questo in queste cose ieri era comprare Matteo tanti auguri a lui e qua adesso ho ritenuto la camera vi ringrazio a tutti 27 anni e praticamente ieri è stato uno dei raccomenti uno dei topic che è andato di più per la serata quindi una birretta tira l'altra poi insomma si fa la discussione ecco diventa una discussione vera e di fatto fa un po' strano questa ma si parlava almeno questa era un po' la mia opinione mi aspetto che adesso i controlli diventano più drogo quindi chi odiava quel tipo di strategia del controllo che fa hand è bassa in realtà adesso te ne trovi molti di più perché non puoi mai tapparsi per fare le cose e fai aspettare le cose e comunque non puoi più canterare cioè hai solo stance holding adesso per canterare quando sei con the draw il ruffello su di turno si 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 perché ti è rimasto un po' se sei un the draw si se sei un the draw hai quello hai quello che è quello che dicevano un po' effetto pioneer cioè la bestia di secondo on the play entra per forza si si poi magari la rimuovo perché poi il contro argomento di in realtà pochi favorevoli alla ballist è ok ne hanno tutti i counter ma uno esistono altri colori quindi l'idea è non giocare il primo blu ma cazzo lo tu è quello che vuoi ma è quello che voglio cioè però il discorso è eh però fumi c'è fatal push c'è le rimuovo al bianca uno ci sono si l'albero alexandria è tipo legale informato questo mazzaro bagdad è legale questa è un'altra serie di mi sembrano dei power level abbastanza importanti un'altra serie di di discorso che sbloccano delle strategie di gioco abbastanza anfea tipo mazzaro bagdad forse qui può servire che tipo che dite ci può stare infatti se ci pensi se prendi l'infografica che abbiamo visto ieri i primi due erano Rafin e Diada il terzo era Ogak che adesso è esatto perché non ha più non ha più i check del ok forse non posso fare Ogak turno 2 si ma vuole giocare con lo scartino cioè si non ti più spera che fanno cose cioè ormai puoi fare Ogak turno 3 tranquillamente perché dici vabbè tappet out vado tanto non può succedere niente magari ti capita la solitude va bene endurance però il discorso è proprio che è un banner che a conti fatti ha due problematiche tre diciamo uno dal punto di vista andando in un'altra uno dal punto di vista della filosofia di base del gioco si cosa vai a toccare perché esatto due dal punto di vista del gameplay perché me lo rende molto più paccoso che credo che non sia da persona che appunto non ha giocato tantissimo il formato ma che un po' l'ha giocato e comunque ha intorno a persone che ci giocano si è o ha anche chiesto parere a persone che ci giocano tanto e anche persone particolarmente forti non è quello che voglio non voglio un formato più paccoso perché già io voglio quelli che è proprio paccoso adesso si gioca Kirit adesso cosa fa niente fino a turno 9 e poi gioca non lo so capisco e poi ha il problema dell'intervento della community c'è un altro indicatore di quanto sia stato problema che cosa parli come dicevo prima a Mirko Matteo è il fatto che il gruppo Centurio non è sempre stato molto attivo nel senso che un paio di posti al giorno ci sono considerando che sono anche abbastanza filtrati nel senso che non puoi scrivere ciao mi piace c'è una sorta di moderazione c'è una fidanzata non puoi scrivere queste cose quindi strutturata dai con i suoi topic consigli sui maz molti consigli sui maz da quando c'è stato l'armageddon il mayday c'è stato soltanto poi il post di Guatieri diceva che avrebbe mollato con un sacco di abbraccio e pollicioni da partire tutti quanti e questa silenzio totale che è un po' un indice di quanto malcontento io ho la matematica di sicurezza che ci sono dei TO particolarmente grossi che dropperanno il formato che è un problema perché quando i TO droppano il formato per forza di cosa anche i giocatori droppano poi in più molto poi gli organizzano i torrent organizer esatto i torrent organizer ed è un problema sostanzialmente poi in più molto malcontento ve lo so dire in modo particolarmente conciso credo che ci sia un negozio che porterà avanti il centurion e basta provare il centurion ci sta perché è un avviso un po' diverso di quello che è il magic competitivo 100 cart che è fatica secondo me è un'esperienza il formato non è male e che semplicemente questa decisione secondo me sarà impattante poi magari si scopre che hanno ragione loro perché io voglio dire è una ballist che per me Alessandro Polifanzone non ha senso proprio per come io vivo il gioco poi magari si scopre che loro hanno voluto creare questo ambiente in cui questa cosa in realtà funziona benissimo è ok però tu per provare un punto hai ucciso la pubblica ne vale la pena? almeno? devi morire per nascere per quello un po' come si suol dire devi mettere un punto fermo su una cosa per poter fare in modo che volva a volte la cosa che lascia un po' così e che questa presa di posizione la trovo veramente forte e sostanzialmente contro una singola strategia di gioco contro una singola strategia il non-timing è piuttosto complesso perché rifetto il mid-season cioè non hanno neanche aspettato che la season finisse quindi vuol dire che proprio è fortemente voluto c'era internamente c'era c'era proprio questa volontà quindi probabilmente uno non ci hanno pensato ieri due è stata molto reclusiva da quello che so si parlava già da qualche settimana se non addirittura un mesetto però questa è un po' da confermare perché sono espose noci di Corridoio girava già noci di una Paris piuttosto importante che sarebbe arrivata verso fine luglio quindi in realtà un po' si sapeva già però non era troppo lato di niente di tutto questo quindi gli ultimi giorni se non sbaglio ci sono stati un po' i riusci di Corridoio che avrebbero ucciso in blu però spesso una lancia in loro favore comunque io mi sono trovato abbastanza male con Centurion perché appunto vedere un formato cioè la competitività di un formato singleton quindi con tutte carte diverse a parte le lande base non è sicuramente semplice perché c'è una radunicità nella mano che ha Free io non è che mi posso mettere 4 coppie del Counter Spell 4 coppie del Kent 4 coppie di questo così almeno uno ce l'ho capito? io posso aprire di groppa 5 tranquillamente perché la varianza è terrificante capito? e poi tra l'altro cosa che non abbiamo detto quindi scusami non è facile andare a plasmare a dare un taglio di fatto più rotondo con una varianza così grande che ti può far sembrare un mazzo top tier può aprire una mano e perdere contro un Precon per come potresti aprire la mano proprio c'è una varianza troppo forte e l'interazione tra le carte è vero che sono tante perché hai un grande set a disposizione però lasciare un po' ok fai forso will cosa è pitch commander cioè è tosta scegliere a volte io quando io gioco commander ogni tanto non ho senso un esser umano anch'io e sempre contro no non è vero gioco gioco è un pitch oppure è un pitch brutto tipo vuoi pitchare una cosa troppo forte e dici vabbè dai entra questa cosa qua cioè spesso avrei preferito un counter spell di mano rispetto a force will e ho un po' sempre avuto la stessa sensazione di legacy quindi in competitive 1v1 commander ai 25 di vita non è facile scegliere cosa da toglie appunto appunto per quello che premia un po' la skill e non il ok ho la force ho vinto perché ho la force no di fatto se fai force stai comunque perdendo più di prima tecnicamente si cioè puoi fare quel ragionamento lì che è un po' una cosa molto frenata di ieri sera no eh io sto stravincendo ho la force che mi fa quelle cose ma se stai già stravincendo qualsiasi carta è forte qualsiasi carta è forte dalla carta più mediocre alla carta più sbroccata ancora più sbroccata però forse un milione è una carta che vuoi vedere mai a top depth esatto è una delle carte che non vuoi vedere la tua quindi non mi immagino un mondo in cui non possa esistere delle pitch spell che cantano poi c'è una esatto ma poi soprattutto perché è un formato molto vario nei comandanti cioè l'hai vista l'hai vista ieri sì Raffin Ruggams Diada che adesso non c'è più è vero Diada Raffin erano abbastanza predonianti comunque Rist Dice 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 Zon Tassi Zon 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 Ghirson quello Z di Warhammer comunque M.E.N.S.R ce ne sono davvero tanti e comunque i top tier erano il 5% del meta e i terzi erano il 3% quindi comunque vuol dire che sì erano parecchio forti il conversion rate paradossalmente non giustificava tutto questo essere top tier ingestibili ok però vabbè ci stava sì siamo parlando di Dice Winter 80% quello a cui volevo arrivare è che il meta dei comandanti è molto variabile quindi ci sta avere una forza perché io magari ho un matchup orribile contro nessuno a caso Asmorano Mardyca Mardyca Vistina Bull che era quello perché stava fatto che sapevo tutto il nome e magari ho quella freestyle che mi aiutava contro quel matchup che è da 90 10 20 88 12 che tra l'altro mi pare che le carte come First Guardia 5 o così si erano già bannate sì erano già bannate prima che quello ci sta perché quello è davvero un counter gratis quello è gratis a priori è uno scambio uno a uno senza pagare mano e quello può essere un problema perché allora si puoi vedere davvero l'efficienza della carta general comunque devi avere giù il comandante per carità però sai Geist 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 cioè X-Proof allora li puoi capire questi due cose come anche la rinunzione o le defende SWOT queste cose qua perché non devi rinunciare all'altra carta in mano ecco perché forso guida forso negation è il tuo turno quindi non puoi proteggere il tuo play proattivo è solo reattivo quindi se uno mi trova chiuso e mi fa armageddon allora incidimi per forza perché io non posso rispondere non posso fare niente page non posso fare niente non ho nessun modo di fare non ho nessun modo di interagire saluti solo su pensuolo che non mi hanno inventato interazione quindi più o meno la situazione è un po' questa siamo resi conto che ci sono due fazioni molto divise e cambia anche tanto dall'esperienza del giocatore magari che è una visione più ampia di me però io ho visto che i giocatori navigati sono tutti per il è una banalist che non ha senso vero anche io sono d'accordo allora io sono più verso questo tipo di cosa cioè i pitch sicuramente no va bene lo sbando i comandanti il bando il comandante quello ci può stare non è niente di strano bannare l'interazione ognuno sinceramente la stupidaggine perché sono carte che sono forti turno 1,2,3 fine il resto è uno scartino è veramente una carta che non vuole vedere uno deve pensare sempre la voglio vedere a top deck esatto no esatto forse will è una carta che vuole vedere a top deck se stai perdendo se hai bisogno di dare una svolta al gioco non è forse will che mi fa cambiare le cose ponte le note più forte è forse una top deck più forte che vuole fare dopo il sastro di coppia che non c'è ovviamente ma ormai non c'è però un play tipo la vera l'inizandria vai non è male non è male più scartino quindi quindi la cosa che è venuta fuori è che chi ha perso secondo me la community sostanzialmente ha perso la community variazione di strategia perché la community secondo me ci sarà uno scismo d'oriente è ingestibile io spero per il formato di no perché è un formato che non guardo però è un formato che rispetto tantissimo perché si è riuscito a costruire una nicchia felissima beh la diversità è comunque sempre una cosa è sempre un valore aggiunto già in generale in un gioco di kart che è così grande così esteso che permette di creare tutti questi formati è una perdita se è un formato a farsi friggere in questa maniera non è bellissimo ecco ci dispiace dal punto di vista perché c'è chi si gioca quindi il nostro messaggio noi speriamo di aver torto marcio cioè noi speriamo in realtà questa che questa valis sia la cosa migliore che se mai è successa c'è un'altra vision incredibile perché se te ne è in prima vi chiediamo scusa ma proprio un video di un oro dove vi chiedo scusa e sì anche perché andare contro dei postulati di magic come il kart disadvantage e è veramente la prima volta che succede che un counterspell in una pitch card dai un bannata non esiste un'altra pitch card che sia stata bannata che io abbia idea di carte gratis forse solo c'è stato one second time che non era si rotta e ci metta il misstep rotta ovviamente usate il mazzino blu perché da all'epoca era veramente 56 carte più 4 coppie di quella aveva peggitax un po' sì ma è sempre un po' che non è il counter step comunque sì non è il counter step però è molto comodo per ogni cosa quindi prima volta che succede non si sa come reagire probabilmente male quello sicuramente qualcuno reagirà male c'è panico in generale molto divisivo scisma d'oriente c'è chi non potrà giocare chi uscirà la formata chi si avvendrà tornare indietro non lo sappiamo secondo me no perché una verga ti fa scena libido veramente vuol dire che allora basta che uno si cioè crei un altro precedente di un precedente se hai capito se mi hanno vinto troppo non avrei cambi idea perfetto allora cerchiamo sul QD5 tutte le volte però comunque la mia opinione mi associiamo un po' la tua non lo so in caso mi correggi andare a toccare carte che fanno 2 per 1 auto 2 per 1 assi per una carta non mi piace rompi un postulato di match gigante uno dei pochi che è rimasto ancora in piedi perché la color pie ormai sta morendo sempre di più in fase di istruzione però queste cose qua non hanno mai avuto storicamente un grande impatto sul formato quindi dicevamo una serie di ban che faranno parlare di set se ne parlerà tantissimo ne stiamo parlando noi oggi da non giocatori di centurion quindi di riflesso la risonanza è parecchia e anche abbiamo parlato più di questo che del Pro Tour tra l'altro vabbè perché il Pro Tour è parecchio sono le banche che non chiamate però comunque fa riflettere che una cosa così locale faccia più risonanza di Tron 8.0 esatto esatto perché effettivamente si è giocato però il Pro Tour tutti lo aspettavano tutti volevano che arrivasse è arrivato prevedibile tutto prevedibile sono anelli di orchi ovunque però invece questa che tra l'altro l'abbiamo presi finalmente l'abbiamo presi abbiamo 12 orchi 3 ho acquistato 4 orchi anch'io dato che tutto l'oro di commander ma 12 orchi 12 orchetti e no ring tu ne l'hai presi ring no io ne ho 4 io ne ho presi 3 anni c'ho il quarto so già dove prenderlo 4 orchi 4 orchi quindi no io i orchi no ho un po' con un altro bisogno in 4 color volevo andare di mil control che secondo me sembra carino anche se non nince è scritto control esattamente e per me c'è un po' blu e nero che come ho detto prima i colori più forti del formale e tra l'altro dopo non riuscire a prenderla poca vista e che male no me la presto e io non sono lui no me la presti tu hai un foil tu non vuoi le carte foil non ce l'hai il coil tu ce l'hai normale sicuro no c'è un ferexiano ferexiano vabbè 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 un ferexiano ma sta che non sia foile ma l'altro è ferexiano 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 al netto di questo cosa ne pensate voi di questo grande cambiamento? io voglio un sacco di commenti voglio che mi insultate la mamma voglio che flammiate qui sotto tantissimo mi ha cosmetto di giocare blu c'è il giocatore control dal tuo punto di vista ho già detto e quindi dal punto di vista dovrebbero bannare Tozzi però non l'ho mai chiesto non l'ho mai chiesto perché poi so che se mi bannano Tozzi poi vengono da me esatto io sono il prossimo quindi no no sostanzialmente vogliamo sapere un po' cosa ne pensate io ho davvero studiato tanto le relazioni quindi non so già cosa aspettarmi un sacco di persone che diranno effettivamente è un po' la cavolata perché blablabla perché anche loro riflessano quello ptsd da contropleo un po' sì e poi gli altri un po' più diciamo tendenzialmente la relazione classica è allora molte no però forse forse le altre le altre no ma forse le altre le altre sì che quindi vabbè vi abbraccerò caldamente e io no però in modo rispettoso quindi vogliamo sapere questa cosa cosa ne pensate le vostre idee come cambiare il formato se seguite anche Centurion se avete mai giocato non so provatelo magari non adesso non è il mio momento migliore secondo me è il proprio momento giusto secondo me secondo me è il mio momento è il mio momento perché è il mio momento perché è il mio momento per capire per dire adesso io gioco Ogak che tutti dicono che San Moti era 0 gioco Yoshimaru e Jeska quindi devo fare 18-0 mi fate 0-2 e morite quindi non so portiamo anche la post-prodizione sul protour sul protour sul protour noi proviamo allora sì molto più è molto più importante però è più classico faremo una puntata post-protour in cui parleremo del protour in cui parleremo del bando direi no ma non credo non credo non credo no io storicamente a me non hanno mai colpito le carte che compravo a me sì a me sì mi hanno bannato FOD appena l'avevo comprato ma è FOD ma è Spinter Twins si quando ci sta quando mi hanno bannato Spinter Twins ho riso ho detto cioè me lo aspettavo ci sta me lo aspettavo quindi io no tu te lo secondo me for COVID io spero di quel ragazzo Greg Orange che non è giusto controcolori contro contro bella idea è stato teso sui principi 7-0-1 7-0-1 e quindi niente cosa è stato il futuro chi vincerà non lo sappiamo neanche noi perché non è ancora finito commentate chiedete alla gente voglio un po' di prediction se Mirko comprerà le scelope dell'apocalisse o no 3 ricordo sono 180 euro se qualcuno è il momento è il momento di vendere di mandare l'annuncio non lo farò ragazzi io lo dico già carta da paio per me e quindi per oggi è tutto per oggi è tutto tanti saluti da Pento il bicchiere Mirko vi vogliamo tanto bene o forse no o forse no vedremo dipendere come commentare o forse no ragazzi ci vediamo al prossimo buonasera a tutti vediamo 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 Grazie a tutti